Magari non abbiamo espresso un grandissimo gioco, però il Crotone sicuramente ha fatto bene. Però fuori caso in un campo stretto, con tanto vento, un brutto terreno, non è mai facile vincere. Io mi ritengo soddisfatto della partita perché comunque abbiamo portato a casa i tre punti. Magari qualcosa si può aggiustare e in questi giorni con il mister lo aggiusteremo. No, mi pongo degli obiettivi, poi faccio di tutto per riaggiungerli. E ci stiamo avvicinando piano piano. Quando facevo i pulcini, segnavo tanto anche lì. Dopo un po' magari c'è anche qualche merito mio, non soltanto della fortuna. Però comunque le palle gol capitano, insomma capitano per fortuna. Speriamo che ne capitino di più soprattutto anche per gli attaccanti perché non è giusto comunque che a loro non capitano a me no. E a me sì, perché sennò dopo un'ispo di età mi menano. Secondo me l'obiettivo arriva più in alto possibile, quindi vincendo più partite possibile si arriva in alto. Il mio obiettivo secondo me è raggiungere il Carpi, però se stacchiamo comunque le inseguitrici è tanto meglio. Sì, è vero che ogni partita ha una storia a sé, quindi va affrontata magari diversamente dalle altre. È vero che giocare in casa ci aiuta perché sicuramente abbiamo più spettatori, molta più gente che viene allo stadio, sicuramente che in trasferta. Però bisogna calcolare che se gli altri perdono o no, è la nostra speranza. E a noi siamo obbligati a vincere, come cerchiamo di fare comunque tutte le domeniche, come abbiamo fatto nelle ultime sei partite, a parte Parigi col Pescara. L'andata in questo periodo abbiamo fatto un piccolo filotto, adesso bisogna continuare su questa striscia.